Dottor Foglia, qual è l'atteggiamento del fisco in Italia? Lontana ancora le aziende straniere, secondo lei? Diciamo questo, che probabilmente stiamo ancora scontando quello che è un po' l'approccio passato. Abbiamo registrato una grande aggressività da parte dell'amministrazione finanziaria e, come sappiamo, ha scoraggiato gli investimenti esteri. Dobbiamo essere comunque consapevoli che per cambiare, per mutare questo tipo di sentimento ci vorrà sicuramente del tempo. Ad oggi non possiamo non tenere conto comunque di grandi progressi che sono stati fatti con nuovi provvedimenti, provvedimenti che sicuramente sono finalizzati e daranno i propri risultati proprio in una prospettiva di attrazione investimenti. La stessa Cooperative Compliance, la nuova procedura per gli interpelli sui nuovi investimenti, stanno iniziando a dare i loro risultati e quindi dobbiamo essere da questo punto di vista ottimisti, nel senso che è indubitabile un mutamento in quello che quantomeno è l'approccio da parte anche della pubblica amministrazione e in generale anche per quanto riguarda i provvedimenti legislativi che per l'appunto da ultimo sono stati emanati. Grazie.